Allora, sto provando la mia nuova piccola macchina che riprende anche sott'acqua. Allora, spero di non sbagliare, ecco, ecco, una prima al lago, fantastico, finalmente una bella domenica, guardate la barca che sta arrivando, non so se la vedete. Allora, ok, con il sole incontro, però non so se si vede, Kleino con Ostenho che è fantastico. E io sono qua a nuotare, tac, tac, la prova è questa. Ecco, adesso la prova è questa, spero di non sbagliare. Selfie live, selfie live in acqua. La riaccia. ecco ecco la vita è bella solo così e con i cani e altro ecco ecco arriviamo al buon e ripartiamo a più e ripartiamo a riva cambio mano che vuoto meglio anzi vuoto meglio con la sinistra ma meglio con la sinistra per tenere la macchina di fotografia ecco